Buonasera ragazzi, è notte fonda, no, quasi, ma il bello di queste lezioni online è che si possono caricare e poi voi le vedete quando volete. Io ho tempo adesso e quindi faccio adesso la spiegazione della presentazione che vi ho mandato. Allora, prima cosa, mi scuso tantissimo con tutti voi, ho visto come ve la fa scaricare da Virtual Classroom e ho visto che è molto diversa da come l'avevo fatta io, nel senso che, per esempio, una cosa che ha scritto Alberto che mi chiedeva di togliere lo sfondo, ovviamente io non l'avevo messa con lo sfondo così forte, l'avevo messo molto, molto più sfumato e più chiaro in maniera tale che non contrastasse con le parole. E anche la prima pagina non era così, ho visto che ha tagliato metà della cosa che avevo fatto, quindi mi dispiace se il formato in cui il sistema l'ha cambiato non ha reso la lettura ottimale. Quindi posso pensare di ricambiarla, metterla magari in PDF che è un formato che legge meglio e vedere se mantiene il formato che ho messo io. Quindi perdonatemi questa cosa, la prossima volta ci sto proprio attento, pensavo che non desse problema al formato in cui l'avevo inviata. Bene, andiamo avanti e spieghiamo cos'è questo mondo liberale di cui vi ho parlato nella presentazione. Voi ovviamente state facendo le ricerche sui totalitarismi, sui tre principali totalitarismi, perché, come avete visto all'inizio della presentazione, vi ho detto che i regimi totalitari non si instaurano soltanto nell'Unione Sovietica, in Germania e in Italia, ma ci sono un sacco di altri paesi, che in Europa diventano quasi la maggioranza, in cui si instaurano poco alla volta, non tutti nello stesso momento, l'ultimo di questi sarà la Spagna nel 1936, poco alla volta si instaurano dei regimi totalitari, quindi con a capo una persona forte che decide tutto e tutte quelle cose che state vedendo e scoprendo nelle vostre ricerche. Tuttavia non tutti i paesi decidono di fare questa svolta. I tre paesi più importanti che non cambiano il loro sistema democratico sono la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti. La presentazione che vi ho inviato riguarda principalmente gli Stati Uniti e il motivo, l'abbiamo già detto più volte, perché con la Prima Guerra Mondiale comincia quell'atto di passaggio dell'Europa, che non è più il centro del mondo, il traino del mondo, ma comincia il passaggio nei confronti degli Stati Uniti e poi vedremo anche dell'Unione Sovietica con la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, gli Stati Uniti sono il paese liberale più importante, perché abbiamo definito questi tre paesi liberali? Perché mantengono quelle libertà che invece negli altri paesi a regime totalitari vengono negate, le libertà di espressione, di stampa, di aggregazione partitica e politica e così via dicendo. I paesi liberali sono... ok. Seconda slide. La presentazione di questi paesi liberali si divide in due parti, negli anni 20 e negli anni 30. Come mai? Gli anni 20 sono definiti i ruggenti anni 20. Questa è un'espressione tipica di alcuni romanzi, soprattutto del mondo della letteratura e dell'arte, della musica anche, ma rappresenta non solo questo mondo, ma in generale tutta la cultura e il sistema politico, industriale di quegli anni. ruggenti perché si aveva l'impressione che finita la Grande Guerra, che non chiamavano ancora Prima Guerra Mondiale perché non si immaginavano ce ne sarebbe stata una seconda, finita quella che era stata la più grande guerra di tutte quelle che erano mai state combattute, sì, erano aperti dei nuovi orizzonti di speranza. E quindi l'economia era ripartita, con qualche difficoltà in Europa, certamente, ma negli Stati Uniti con molta più facilità ed è per questo che sono loro il traino. E quindi si ha proprio l'impressione che ci sia un motore che sta rombando, che sta ruggendo e che va velocissimo, non si sa verso dove. Ho diviso la presentazione in aspetti politici, aspetti culturali, industriali, aspetti economici. Cominciando da quelli politici, per tutti gli anni venti gli Stati Uniti sono stati governati da presidenti che arrivavano dal partito repubblicano. Come sapete o come avete sentito, la politica statunitense si divide ancora oggi in due grandi partiti, i democratici e i repubblicani. L'ultimo presidente democratico era stato Wilson, che era il presidente che aveva firmato gli accordi di pace a Parigi nel 1919. Lui aveva una grande idea di come bisognasse cambiare il mondo per far sì che guerre come la Prima Guerra Mondiale non ci fossero più. Aveva creato una struttura che riunisse tutte le nazioni in un solo posto, in maniera tale che potessero decidere insieme come risolvere le contese, le tensioni, ed evitare le guerre. Altre che aveva scelto come nome per questa organizzazione è la Società delle Nazioni, molto simile a quello che è adesso l'ONU. Cosa succede però alla Società delle Nazioni? Che lui fa questo grande progetto, alcuni in Europa dicono sì sì dai che bella idea, torna in patria, cioè nel suo paese, perché aveva fatto questa proposta nel 1919 a Parigi, torna in patria e il primo paese a dire no a noi questa cosa non piace, non interessa, perché non vogliamo avere contatti con gli altri, sono proprio gli Stati Uniti e quindi fa una pessima figura perché la sua proposta non riesce a farla accettare dal suo stesso paese. Questo causerà la sua non elezione nel 1920 e quindi lui che era un democratico lascerà la presidenza e cominceranno gli anni delle presidenze repubblicane, sono diversi presidenti che si alternano. E qual è l'idea dei presidenti repubblicani? Innanzitutto noi non vogliamo invischiarci troppo dal punto di vista politico con gli europei perché hanno fatto un sacco di casini, hanno causato un sacco di problemi a loro stessi e quasi anche a noi che abbiamo dovuto intervenire perché sennò le loro economie non si reggevano più in piedi, quindi noi sì, vendere a loro i nostri prodotti va benissimo perché facciamo soldi, ma dal punto di vista politico delle decisioni comune no, meglio che ognuno decide per sé e così siamo tutti più contenti. Questo atteggiamento è l'atteggiamento cosiddetto isolazionista, cioè loro volevano isolarsi solo dal punto di vista politico mi raccomando, non dal punto di vista economico, isolarsi dal punto di vista politico perché vogliamo decidere per noi e non vogliamo avere dei legami con gli altri che poi ci dicono che alcune cose non le possiamo decidere, vogliamo essere autonomi. E questo per quanto riguarda il rapporto con gli altri paesi, all'interno degli Stati Uniti ha un atteggiamento che viene detto liberale, attenzione, liberale è diverso da liberale, liberale è l'aggettivo con cui abbiamo definito Stati Uniti, Regno Unito e Francia ed è l'aspetto politico, cioè chi decide, i ministri, il re per chi ce l'ha o il primo ministro e come si comporta nei confronti dei suoi cittadini. Quindi se gli lascia delle libertà viene definito un paese liberale. Per quanto riguarda l'aspetto economico, liberista è un atteggiamento tale per cui lo Stato viene estromesso, cioè viene escluso più possibile dal mercato. Cioè nel momento in cui ci sono due commercianti che si scambiano delle merci, lo Stato può decidere. Quando la merce passa da A a B, io metto una tassa, perché c'è un passaggio di merce, c'è una ricchezza, io che sono nello Stato mi intrometto e quindi decido che tasso questo bene, ogni volta che c'è una merce che arriva da fuori io gli metto una tassa, eccetera eccetera. Questo atteggiamento di uno Stato è uno Stato che ha un grande peso nell'economia, ok? Uno Stato che invece fa il meno possibile, cioè dice no no, voi fate quello che volete, voi potete fare tutti gli scambi che volete con la quantità di denaro che volete, scambiarvela nelle forme che più preferite, eccetera eccetera. Uno Stato che si toglie da questi incarichi e lascia fare agli economisti, agli industriali, ai borghesi, eccetera eccetera, ai capitalisti, senza metterci becco, è uno Stato liberista, cioè che lascia fare agli economisti. Ovviamente questo è quello che vogliono i ricchi. I ricchi vogliono uno Stato che se ne stia più possibile per sé, che non si intrometta, che non dica loro che ci sono delle tasse per questo, per quest'altro, quindi i repubblicani che sono più di destra e quindi più vicini alle posizioni delle persone con capitali e avvienti, fanno gli interessi dei capitalisti. Quindi i presidenti repubblicani attuano questo tipo di politica economica, ok? Quando la politica si mischia all'economia si chiama politica economica. Altra cosa, quindi abbiamo spiegato anche cosa vuol dire liberista rispetto a liberale. Altra cosa, noi ci immaginiamo che appunto negli Stati Uniti ci sia la libertà di parola perché li abbiamo definiti liberali. Sì, ma attenzione. Attenzione perché non proprio tutte le idee erano ben volute, ben accette, perché loro stavano tenendo molto d'occhio che cosa succedeva al di là dell'oceano, in particolare cosa succedeva in Unione Sovietica e non piacevano per niente queste idee comuniste. Vi immaginerete che se già uno non vuole che lo Stato gli metta una tassa su una transazione, su un commercio, figuratevi se i borghesi capitalisti americani possono avere in mente uno Stato comunista, cioè che requisisce tutto, che prende tutto e diventa tutto loro. Per loro questo è peggio del diavolo. Quindi, non vogliono che le idee comuniste, anarchiche e in generale di sinistra si diffondano troppo. Quindi, se uno ha queste idee, viene gentilmente accompagnato alla porta. Un altro aspetto è quello del proibizionismo, che forse qualcuno di voi avrà visto in qualche film, in qualche gioco, magari. Il proibizionismo è quella fase degli Stati Uniti in cui la diffusione di alcolici era vietata. E quindi, questo per farvi vedere come c'erano alcuni limiti che erano minori, ovviamente, rispetto a quelli che venivano imposti dai regimi totalitari, ma comunque qualche aspetto della vita era regolato. Ho ancora quattro minuti per questo video e riesco sia a dirvi qualche cosa degli aspetti culturali e industriali. Vi ho spiegato che cos'è il Fordismo. Il Fordismo viene da questa persona che si chiamava Ford, che era un produttore di auto. E lui comincia a produrre un sacco, un sacco di auto grazie alla catena di montaggio, è quello che le inventa. Cioè, lui dice, anziché mettere lì una persona che costruisce una macchina dall'inizio alla fine e con un sacco di operazioni diverse che deve cambiare, magari posizione, deve andare a prendere un nuovo materiale in un altro posto, eccetera, io metto tante persone che fanno sempre la stessa cosa, cioè magari solo girare un bullone così tutto il giorno, io le metto su un nastro che piano piano fa scorrere la merce, tante persone che fanno una sola azione in maniera tale che si velocizzi terribilmente la produzione. Questa era stata la sua grande idea, l'altra sua grande idea ha detto è inutile che io faccio delle macchine costose che possono comprarsi solo i ricchi, perché se le comprano solo i ricchi è vero che sono costose, ma io ne venderò poche. Quindi la sua grande idea è stata io aumento il salario dei miei dipendenti, in maniera tale che i miei dipendenti che sono operai, che non hanno studiato, che non sono ricchi, eccetera, eccetera, abbiano un livello di salario necessario e sufficiente per comprare le macchine che io produco. Quindi di lui aumenta di moltissimo anche le persone che erano nelle possibilità di comprare le sue macchine. Quindi in pochissimi anni la macchina che era un bene, diciamo, d'elite diventa molto più diffuso, ovviamente non come oggi, ma rispetto al tempo c'è un boom dell'utilizzo delle macchine. Questo ovviamente è un simbolo, ma viene diffuso per qualsiasi altre cose, per qualsiasi altra merce. Gli elettrodomestici ovviamente non come li abbiamo oggi, ma è l'inizio di questa nuova era industriale, per cui individualista, cioè tu hai tutto quello che ti serve da solo, consumista perché è pensata per far sì che la gente debba consumare, 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 perché io sto producendo a una velocità molto più alta rispetto a vent'anni fa, per esempio, e soprattutto io ho bisogno che la gente compri, perché se l'artigiano fa una macchina per volta, se vede che c'è poco mercato, non ne produce 100 in un mese. Se però io creo un'azienda in cui produco 100 macchine al giorno, se poi queste macchine non le compra nessuno, ho un grande problema. Quindi la gente deve consumare, deve comprare quello che io produco. Questa esplosione c'è anche dal punto di vista urbanistico, in realtà ce lì sono il simbolo delle nuove città americane. Ovviamente tutto questo va bene finché regge, ma già da adesso dobbiamo avere in mente che alcune persone cominciano già a pagare tutto questo sviluppo, nel senso che i lavoratori, non quelli della Ford che stavano comunque bene, ma diciamo che ci sono alcune categorie che per ora in silenzio, ma nei prossimi anni vedremo come verranno fuori, cominciano già a dimostrare che ci sono alcune contraddizioni in questo sistema, ma lo vedremo nel video successivo.